Ciao ragazzi e bentrovati all'appuntamento cinefilo della settimana. Oggigiorno, quando si parla di cinema in ambito promozionale, c'è un elemento molto importante da non trascurare per assicurarsi una buona affluenza di pubblico nelle sale, il trailer. Molto spesso i trailer possono rivelarsi anche abbastanza decisivi nello stabilire la fortuna o meno di una pellicola, perché funzionano un po' come dei biglietti da visita. Meglio sono fatti, più è alta la possibilità di portare persone al cinema a vedere quel film. D'altra parte però c'è anche il rovescio della medaglia. Peggio sono fatti, più è alta la possibilità che poche persone vadano a vedere il film al cinema. Tra gli errori più grossi che un trailer può commettere, lo spoiler è senza dubbio uno dei più comuni. Ecco, con questo video voglio proporvi la mia top 5 dei trailer che hanno spoilerato completamente il film. Ah, ovviamente questo video è spoiler alert per tutti quelli che non hanno visto i film di cui parlerò con questa top 5. In quinta posizione troviamo Avatar, film del regista James Cameron, che oltretutto dovrebbe vedere l'uscita di un sequel da qui a qualche anno. Ormai sono passati un bel po' di anni dal primo Avatar, è infatti il 2009 quando esce nelle sale questo gigantesco blockbuster di tre ore fatto di tanti effetti speciali, tra cui tra l'altro un primo tentativo di ricorrere al 3D quale strumento di intrattenimento maggiore per lo spettatore. Personalmente l'ho sempre ritenuto un film un po' sopravvalutato. Ad ogni modo, non sono qui per giudicare la qualità del film. Il trailer realizzato per questa pellicola è riuscito a fare qualcosa di eccezionale, riassumere tre ore di film in tre minuti. Se andate a vedere il trailer ufficiale di Avatar, vi troverete di fronte a un video che praticamente racconta tutto il film dall'inizio alla fine, dall'arrivo di Jake sul pianeta Pandora fino allo scontro finale tra i militari e la tribù dei navi e lo fa racchiudendo così tanti momenti di svolta della storia che a quel punto, dopo aver visto questo trailer, non puoi fare a meno di chiederti perché mai dovrai spendere dei soldi per vedere un film che ho già visto? In quarta posizione troviamo Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. Eh sì, nonostante sia convinto del fatto che quando parliamo del Signore degli Anelli parliamo probabilmente di una delle trilogie fantasy più belle di sempre, qualcosa non ha funzionato quando si è trattato di promuovere l'uscita del secondo film con un trailer. Ai tempi, ovvero nel 2002, non tutti andavano a vedere questi film con alle spalle la lettura dei libri di Tolkien, anzi direi che una maggiore affluenza di lettori verso la trilogia del Signore degli Anelli si è verificata soprattutto in seguito alla visione dei film, cosa di cui i responsabili della realizzazione del trailer delle Due Torri probabilmente non hanno tenuto conto perché il primo trailer del secondo capitolo mostra uno spoiler piuttosto grosso, la resurrezione di Gandalf. Nella Compagnia dell'Anello, l'apparente morte di Gandalf verificatasi durante lo scontro con il Bellrog è sempre stato un momento molto toccante a cui Peter Jackson ha dato molta enfasi. Ragion per cui non capisco perché il trailer del film successivo ha dovuto compiere una rivelazione così grossa su un tasto così importante per i fan del Signore degli Anelli. Non sarebbe stato meglio tenere la cosa segreta fino alla visione del film? In terza posizione troviamo Terminator Salvation. La saga fantascientifica inaugurata nel 1984 da James Cameron ha dato vita ad un franchise che al momento può contare su cinque pellicole. Nel 2009 è uscito il quarto capitolo, ovvero Terminator Salvation, che riprende le vicende di John Connor ma questa volta con l'aggiunta di un personaggio, Marcus Wright. Quest'ultimo svolge il ruolo quasi di coprotagonista considerando che la pellicola tende a soffermarsi molto sulle sue vicende e a buon ragione dal momento che si tratta di un personaggio portatore di un segreto che si palesa solo verso il termine della pellicola. Il segreto in questione è che Marcus è a sua insaputa un modello di Terminator col compito di infiltrarsi tra le schiere degli umani ribelli. Un plot twist interessante, visto che per gran parte della storia il film intende farci affezionare a questo personaggio. Peccato solo per una cosa, questo twist non funziona per nulla perché è stato spudoratamente spoilerato nel trailer del film e ancora adesso mi trovo a chiedermi perché hanno dovuto spoilerare una cosa così importante. La seconda posizione ho deciso di riservarla a Cast Away. Robert Zemeckis è stato il regista di tanti piccoli capolavori e penso di poter mettere Cast Away in questa categoria senza alcuna incertezza. Tra i film con protagonista Tom Hanks, Cast Away è uno dei miei film preferiti in assoluto e racconta la storia di un corriere che in seguito a un incidente aereo è costretto a sopravvivere su un'isola deserta in mezzo al mare. Se dovessi consigliare il film a una persona che non lo ha mai visto, sicuramente gli direi non guardare assolutamente il trailer. Questo perché il trailer del film in questione fa uno spoiler piuttosto grosso, mostra il ritorno del protagonista a casa e lo fa non solo mostrando il rientro in aereo di Tom Hanks ma addirittura si azzarda a mostrare la scena in cui il protagonista rivede la sua fidanzata dopo gli anni passati sull'isola. In prima posizione, signori, piazzo, Carrie. I libri di Stephen King non hanno mai avuto grande fortuna al cinema ma senza dubbio la pellicola di Brian De Palma è riuscita a rendere giustizia al suo romanzo di riferimento con un film horror destinato ad entrare di diritto nella storia del cinema. Devo ammettere però che il trailer di questo film mi ha lasciato piuttosto basito. In breve, una voce narrante racconta la trama del film e andrebbe anche bene se non fosse che non si limita a darne qualche accenno ma propone praticamente una sintesi dell'intera pellicola. Scena del ballo compresa che probabilmente è uno dei momenti più importanti della storia. Bene ragazzi, questa quindi era la mia top 5 dei trailer che hanno completamente spoilerato il film. Io spero che vi sia piaciuta, voi fatemi sapere la vostra personale top 5 con un commento. Come solito vi ricordo di passare anche dal mio canale personale Lorenzo Signore in cui settimanalmente troverete recensioni di film passati in uscita. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro di passare un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.